Musica Salve a tutti, le pasta del capitano oggi vi porta alla conquista della montagna Siamo diretti al rifugio Sebastiani A quota 2.000 metri, adesso siamo circa 1.580 metri La Jeep riesce ad arrivare anche in questo terreno Qua bisogna lasciare le macchine Qua c'è una miniera di backseat, ecco questa miniera di backseat Dove si deve proseguire a fette Musica 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 Il sentiero inizia percorrendo un bosco Musica Un cartello stradale in mezzo al bosco, incontriamo a un certo punto qui si sentono dei fantastici grilli qui incontriamo un rifugio di pecorai incontriamo un beveratoio dopo una faticosa salita troviamo quest'altro paesaggio e proseguiamo e possiamo ascoltare questo silenzio apprezziamo anche il più piccolo microscopico fiore in un posto così bello e continuiamo per il nostro percorso eccoci arrivati al rifugio un paesaggio veramente mozzafiato ecco io vorrei arrivare lassù dove c'è la croce ma non è questa oggi la tappa purtroppo perché ho qui Anna che si è stancata eccoci eccoci arrivati all'inizio questo è veramente il posto più alto guardate le nostre macchine stanno laggiù non allo giù con questo telefonino però si può vedere l'altezza non si vedono sono piccoli come formiche e siamo arrivati a questa bellissima cima e oggi vi salutiamo ciao 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 ciao